ciao a tutti ragazzi su un aero non siamo qui in questo prossimo video su minecraft no 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 raga avete visto questo non è il mondo che ho portato oggi pomeriggio ragazzi ma è un altro vi devo far vedere una cosa l'aggiornamento del neta ragazzi mamma mia non ho fin no no mamma mia ossidiana agliacciarino vi devo far vedere ok ragazzi dai 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 io ci sono già entrato è bellissimo cioè non è che l'ho visto tutto sono entrato e sono uscito per fare il video ragazzi buongiorno ragazzi avete visto che è successo dai no non puoi vedere sta cosa ragazzi sta aero brain è infestito da aero brain sto mondo è infestito da aero brain vabbè facciamo grande quando ci pare perché tanto faccio video qua entriamoci non è un messaggio che è successo 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 andiamo ora che andiamo semplicemente cos'è c'è raga ma è impossibile ma che no vabbè non prendo fuoco ma è cambiato solo quello ma c'è raga è la prima volta che lo vedo voi l'aveste già visto in un video ma questa è la prima primissima volta è una cosa che è vabbè la nether è già giocina però non è vero quella cosa perché ragazzi non ho mai trovato non ho non c'è non c'è perché ragazzi mi ha inviato ad un caccio questo aggioramento del nether io ho detto what the fuck e sì i blades vabbè no vabbè non ci credo what the fuck ma adora no dai raga serio siamo seri non si può è illegale sta roba è illegale bravissima mojang la mojang ragazzi sta superando ogni limite la gay mi piace non c'è nemmeno raga questo blocco qua nel nether grande mojang grandissima mi congratulo ehi ragazzi non so nemmeno parlare da quando sono emozionato sì guardate ma dove lo trovate raga un gioco così dove nemmeno fortnite ecco perché minecraft è più giocato di fortnite c'è è ovvio raga che è più giocato a minecraft gioco più bello del mondo minecraft e non sto esagerando mamma mia si può notare prende figo cioè raga però questo blocco se forse avete già visto ma cioè la cenere non c'era cioè ma è fighissimo non so se già c'era raga senza parole senza parole poi in ogni parte si trovano stima dei tetti tini qua e via ma vabbè non ti credo troppo bello sto gioco guardate che ora sto in creativa perchè qua non è nemmeno il mondo in sopravvivenza però qua vi sentiremo gli aggiornamenti quello che è là ok vabbiamo su quello su di mettere in sopravvivenza e vedere che blocco è aspettate prendo alcune diamante dando anzi vedete ancora non posso scopare col diamante vediamo che blocco è blocco ah pietra nera la pietra nera ok vabbè raga non c'è bisogno che mi preoccupo se muoio vabbè ragazzi il video vi è qui spero vi sia piaciuto se così lasciate like quando vi dite iscrivetevi al canale ciao 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 ciao